musica 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 allora andiamo ad entrare qua andiamo un po' uuh un rinox sullo skateboard eccolo hm ah già va anche qua ah anche qua c'è hunter finchè non lo libero però intanto raccoglierei gemme no però si ricreano eh già no no qua serve hunter eh povero piccolo drago il tuo michetto è sparito su su non preoccuparti presto raggiungerai la maga eh no quindi anche questo mondo devo lasciarlo in sospeso cavolo eh no inutile cavolo di lì se nuota nell'acido aspetta però c'è un'altra cosa un'altra zona da vedere aspetta mmmm beh che era va si torno qua vabbè vi faccio un attimo il giro vero era di qua vero si 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 di qua ok e no perché a sto punto beh adesso magari andiamo anche negli altri mondi ovviamente però eh se se non riesco a completare i mondi tanto vale che vada direttamente a liberarlo ecco qua era andiamo a vedere qualcosa che non mi ricordo se no torniamo alla base no allora la ok ok a parte che lì vedo una gemma che brilla si mmmm vediamo se riesco sparo lì mi sa che ci arrivo solo con questo ok perfetto allora rifaccio il giro troppo e se adesso vediamo che mondi ci mancano non penso ce ne mancano tanti nel lago della sera se no andiamo avanti allora di sicuro adesso lì possiamo arrivarci andiamo ok perfetto queste gemme prese rifacciamo il giro e purtroppo poteva mettere però un un vortice tipo fuori dalla barca così mi toccava rifare il giro prendo magari quella gemma che c'è nell'acido e dopodiché e dopodiché ci ne torniamo a casa allora vediamo un attimo era qua non so aspetta qui ok eeeh andiamo indietro indietro che non ce la facciamo aia al telo scusa eh qua ce n'è scusate eh ah qui sono no giusto per capire poi poi va dall'altra parte allora dove era quel luogo boh aspetta nooo è andato eh eh vabbè vabbè niente dai no non bisogna stare qua posso tentare solo una cosa una curiosità vediamo a dove ripartiamo ok da qui si aia posso che voglio vedere se qua sotto c'è qualcosa aia visto che qua abbiamo lo scudo se io prendo lo scudo aspetta ok guarda aaaah ma va che c'è la scorciatoia forse eh si eh vabbè non mica lo sapevo va bene allora con lo scudo mi butto qua magari eh 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 ma qua muoio subito ok vabbè ma inutile star qua troppo dai ok ce ne torniamo a casa proseguiamo liberiamo hunter così poi quando hunter è libero completiamo tutto ah eccolo qua imprigionato eh ciao probabilmente hai un po' di fame grazie hai delle patatine mi spiace per ciò che è successo ma io ti avevo avvisato dovevo aiutare spyro a salvare le uova tu non capisci se non riportiamo i draghi in questo mondo al più presto tutta la nostra magia svanirà i draghi vivevano qui? sì questa era la loro casa ma tanto tanto tempo fa la maga li ha banditi e mandati dall'altra parte del mondo non aveva capito che i draghi erano la fonte della nostra magia forse potrei convincere i draghi a tornare se tu mi lasciassi non posso mi dispiace ma va che puoi uscire eh c'hai due c'hai delle sbarre larghe come una casa va bene allora quindi mi sa che dobbiamo proseguire per forza sì vediamo no qua ci mancherà qualcosa allora altari congelati ok flotta perduta ok no mancava quel mondo questo credo sì la fabbrica di fucile ed edificio vediamo se speriamo che hunter qua non non c'è così possiamo completarlo al 100% ok ok allora oddio ancora questi oh salve spyro sono felice di rivederti quella maga cattiva ha rubato i piani del raggio al professore e io sono in missione segreta per trovarli Andel doveva raggiungermi qui ma non lo vedo forse puoi aiutarmi tu oh pensa a te i due diavoletti qui dove è andato oh oddio questo è un bel cannone andiamo posso accenderlo no mi sembra strano che sia solo decorativo eh oh oh ma ancora quei sei cavolo ecco to quella ha una lucciola ma è andato giù oh boh no è ancora ma scuse ma riappaiono sono infiniti e boh c'è un bel razzo ok ah va mangiato no no aspetta va mangiato e sputato dove contro l'equivo no no ho beccato nessuno cioè ma questi riappaiono così senza senza entrare e uscire dal mondo boh però quella è una lucciola ma no dove ho mirato no ho preso guardalo un nuovo un nuovo attenzione si che poi comunque hunter è stato catturato ma è come un deficiente cioè voglio dire è andato a premere un pulsante brutalmente a caso vabbè guardala ok beh ah qua serve non so andrà bene un razzo guarda che l'avevo visto no qua indietro era eh si vedi riappaiono vabbè strano ok ok olè che esplosione vediamo qua c'era l'uovo qui una zona un pochino nascosta ok ok perfetto ci siamo to nulla mmm è troppo grosso vero? e non va bene perché non gli facciamo niente ah beh beh però se lancia bombe magari posso rispedirgli indietro no volevo sputare no forse no non funziona allora aspetta ecco qua c'è un bel razzo mi serve per forza il razzo ecco eh si beh ok maledetti stava andando giù ok dimmi tutto a quanto pare dovrai usare il cannone per proseguire coraggio saltaci sopra a me basterà soltanto svuotare la mente eh si certo ah che salto che ha fatto vabbè andiamo spariamoci guardiamoci eh comunque non erano solo decorativi mi sembrava strano sembravano tipo insinteragibili in qualche maniera una cassa ritorniamo all'inizio gem gem volè sputtiamo qua ok mettono il razzo apposta perché c'è lui top oh che cavolo ah ce ne sono due aspetta ok serve anche lì va bene c'è un bello scrigno resistente ok mamma mia che luce ninja ah ma mica usciranno da quelle casse con scritto ninja i nemici ecco perché si creano forse questo spara e voilà qua c'è un portale va bene di là un altro portale aspetta che c'è una bella gemma ok no cannone ah ma questo è chiuso però vabbè vabbè devo rifare un attimo il giro ok ho fatto brevemente il giro qua c'è un'altra cassa che non l'avevo vista vediamo che mi dici sembra che la maga abbia già usato i piani per costruire un razzo per sé dobbiamo distruggerlo forza seguimi che idee wonder woman cioè un testone una bambina col testone ah un uovo attaccato ah ecco capito dov'è quel cannone guarda cosa c'era nel raggio forse volevano mandarlo in orbita un uovo eh però ho visto un cartello puoi dire ando che sono tornata a lago della sera per terminare il raggio del professore ok andiamo devo premerlo io no ho visto un cartello ecco qua quindi ci manca un altro personaggio allora non erano finiti vabbè quindi rimarrà in sospeso anche questo mondo bene c'era aspetta allora andiamo un po' c'è una scimmia Karospirov come Karo ti chiami arrenditi ho la scimmia e non ho intenzione di ridartela con affetto la maga eh già una scimmia vabbè poi niente ce li faremo tutti e per forza allora però andiamo a vedere di qua prima allora qua c'era vediamo cosa c'è ah è Ander giusto credo che alle tue spalle ci sia un uovo ma è fuori portata dovrai prendere la strada più lunga e aggirare tutti quei rinoc per arrivarci ok beh questi non li posso sconfiggere a meno che non c'è un razzo eccolo lì l'uovo cavolo no non ci sono razzi qua beh questi non li posso fare nulla ah però si prenderli dietro si aspetta ci ho pensato adesso devi girare o se lo spingo no non non si smuove eh che cavolo devo beccarlo dietro per la gemma aspetta proviamo a fare così ok così si è mosso di là perfetto ecco eh devo allontanarmi ok dove quanti siete ole quasi incornati ok aspetta eh l'ho in tre vista ok oh va che c'è un bel razzo c'ha ecco top aspetta aspetta eh no questo si ah ma è qui vicino guarda aia non vedo boh boom aspetta di qua boom ok effetto non sono stanze segrete vero no non credo però ok ok ehi là c'è uno però se sta così preso ok ah c'è un razzo ma non mi è servito ehi là perfetto piazza pulita ok eccolo qui il nostro ovetto ok cento uova tonde tonde va bene posto no drago cattivo cugin ninja va bene ma vediamo dall'altra parte no sicuramente uno e poi andrei con quel personaggio là non mi ricordo il nome la scimmia vediamo di qua cosa c'è qui di lato ah non si distrugge sempre under ok confeggi due draghi di fuoco volanti e draghi di fuoco ricresce la coda se li lasci stare ok come le lucertole ah ok è infinito meno male aspetta aspetta le gemme magari le prenderò poi eh occupiamoci dei draghi eh devo smontarli pezzo madonna botta botta oh no 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 vaia eh vedi che gli cresce la coda cioè gli cresce il corpo alla fine dove sei dove vai Ah è un tunnel così Ok Cavolo non è semplice Sono poi in due Forse sai cosa devo fare? Aspetta Se loro hanno tipo lo stesso percorso no? Tipo ho detto Cioè se vanno per esempio sempre lì no? Loro passano Vediamo Io continuo a sparare in questo punto Loro passano Però devono passare spesso Effettivamente Pure Aspetta vediamo Cavolo beccato A parte che sono un bersaglio facile No però forse Forse no eh Forse non è il caso Era così Un'idea Dammi un po' di vita Grazie Niente Li devo inseguire Ci viena da fare Devo stargli dietro In qualche maniera Aspetta Allora andiamo su questo qua blu Prima va Va sotto E risbuca Ecco di là Mamma mia Mamma mia Aia Madonna Come se lo sapesse Dove sei Dove sei Eccolo lì Guarda come sta diventando Piccolo No No che sta Ricrescendo Si mi conviene Continuare a Sparare Eh Cavolo Però Vado Dove è andato Ah eccolo Dai Dai che ci siamo Almeno uno Una testa Gli è rimasta Praticamente Dai Dove è? Non lo ve Eccolo Devo stare fuori Come ho sempre fatto Dov'è? Dov'è? Forse l'ho preso Un attimo Non lo vedo più Guarda Ok Esce dall'altro lato Cavolo Dai gli manca Pochissimo Aia Madone Più piccolo diventa Più è difficile Beccarlo Qua che adesso Ho uscito Di qua Aia Forse l'ho visto No Madonna Che fatica Oh Allora Sono più o meno Ritornato A dove ero Prima Ma Porca Vazza Dai dai Sì Preso Preso Ottimo Uno è andato Adesso manca A me Nessuno Solo Però Eh sì Devo Stargli dietro Non c'è Altra Soluzione Nice Aia Tutto Dosso Ok Dai 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 Aspetta Prima che muoio male Dov'è Qua Ok Ho recuperato Un po' Di vita Entra di là Vai Che Lo becchiamo Maledetto Dai Solo La testa Pazzarola Guarda Guarda Guardalo Aspetta Ok Per un attimo Aiuto 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 Aspetta Sta rigenerando Ok Ok Ah una bella Lotta Ok Dove sei Ancora qua Sei Ed evitare di fare quelle curve Lo sapevo che sbucava di lì Ok Oh Sì E si è spavvissuto Complimenti Beh che voi non siete umani Mi sa Ok Perfetto Cos'è? Dago cattivo Poi c'è Armageddon E punto di domanda Però aspetta Perché Vabbè giusto Aspetta Prima di tutto Ok Prendiamo il potenziamento Eh si eh E raccogliamo tutto Ok 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 Allora Qua a posto Di qua Esatto E ci siamo Eh si stava andando Dritto dritto nella lava Allora vediamo se qua c'era qualcosa Sì ecco E vediamo anche qua giù Aspetta No Qua non c'è niente Allora torniamo su Aspetta Aspetta Dove mi indichi Ah l'uscita Allora forse non c'è più niente Perfetto Vado diretto allora eh Andiamo Ok Ok allora qua fatto Se ci spariamo da questo cannone Beh immagino sia una specie di scorciatoia Esatto Ok 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 no Comunque c'è quel Quanto si è rimasto Un uovo Un punto di domanda E Sarà E ci sarà l'uovo legato Al personaggio Quindi io direi Che anche questo mondo Dai per il momento Lasciamolo da parte Aspetta Aspetta Ho visto una cosa Aspetta Di là Quello fatemi vedere No No non ci posso andare Non ci posso pensavo di sì Invece no Vabbè No niente Dai torniamocene Al nostro mondo base Ecco Da qui E Vediamo di liberare Almeno Hunter Quel personaggio Non lo so Magari ha impregionato Anche La scimmia Vabbè Ok Via a casa